Cari amiche e cari amici, vi leggo un articolo di Antonio Socci che è stato pubblicato ieri sul Libero. In coda al video risponderò ad alcune domande che gentilmente mi sono state formulate da un amico del canale. Allora, articolo di Socci, si intitola hanno deciso che Trump debba essere spazzato via a prescindere dal vuoto. Io credo che senza il coronavirus Trump non avrebbe perso, ha osservato Massimo D'Alema, riconoscendo così l'importanza decisiva del virus cinese nell'abbattimento di Trump, il grande nemico della Cina. In effetti, a gennaio scorso, prima del Covid, tutte le rilevazioni dicevano che Trump era di gran lunga vincente, visti i successi di politica economica e politica estera. Trump è il primo presidente da decenni in America che non ha fatto guerre ma trattati di pace. Si è spinto oltre l'affermazione di D'Alema, un altro che nel Partito Comunista è nato e cresciuto Giuliano Ferrara, quando, a urne aperte, è arrivato a dichiarare forse finiremo per ringraziarlo questo virus maledetto, se almeno porterà via Trump dalla Casa Bianca. Una frase terribile che mostra a che livelli polemici si è arrivati perfino qui in Italia. D'Alema ha ricordato che c'è un video di democratici diventato virale in cui Trump è paragonato a Hitler, non mi sembra certo un messaggio moderato. Insomma, l'avemente demonizzazione di Trump va avanti da quattro anni e la qualità di intolleranza e odio che il fronte progressista ha messo in circolazione sta letteralmente avvelenando la democrazia americana. Quando Nancy Pelosi arriva a dichiarare prima del voto che Biden sarà presidente qualunque sia il conteggio finale dei voti, non esibisce solo una formidabile rancore ideologico, non si mostra solo inadatta al suo ruolo di speaker della Camera, ma fa anche sospettare che nello schieramento d'Emme non ci sia grande sensibilità democratica. I repubblicani hanno giudicato molto inquietante questa dichiarazione. D'altra parte, se Biden diventa presidente, lo deve anche ad altre regioni oltre al Covid. Anzitutto i grandi potentati economici che volevano battere Trump, proprio come gli estremisti di sinistra nelle manifestazioni di piazza. Federico Rampini su Repubblica parla di sproporzione nei mezzi economici e di fiume di danaro che nella campagna elettorale si è rovesciato su Biden, il quale ha speso in spot e tv quasi il doppio di un presidente in carica, insomma uno squilibrio senza precedenti. Mentre per Trump è la classe operaia del Midwest che ha continuato a sostenerlo, l'analista conservatore Davis Hanson nota che i democratici sono diventati il partito degli ultraricchi in una guerra con la borghesia, cioè contro il ciato medio, i lavoratori, quel popolo che hanno impoverito e che disprezzano e che per questo vota Trump. C'è poi l'intero circo mediatico che da quattro anni ha demonizzato e delegitimato Trump e che ieri è arrivato a proclamare Biden presidente, come se aspettasse ai media decidere questo. Ma com'è possibile che in una democrazia pressoché tutti i media siano schierati da una sola parte? Eppure è accaduto nel 2016 come in questa campagna presidenziale, eppure in tutti i quattro anni della presidenza Trump. Un centro studi dell'università di Harvard ha valutato la copertura giornalistica dei primi cento giorni di Trump, rilevando che l'ottanta per cento era negativa. Sempre Hanson cita la bufala della collusione russa. I media hanno amplificato per anni le accuse dei dem. E mai Twitter e Facebook si sono sognati di censurare queste accuse senza prove. A proposito, com'è che stavolta nessuno più parla degli hacker russi? La campagna presidenziale 2020 ha mostrato al mondo intero con quale spavalderia i media arrivano a oscurare i repubblicani, specialmente il presidente degli Stati Uniti. La continua censura di Twitter e Facebook alle esternazioni di Trump si somma all'incredibile caso della conferenza di Trump che tre dei principali network hanno deciso di oscurare, sostenendo che Trump ha fatto affermazioni false, come se aspettasse a loro decidere sui reclami che Trump sta presentando in relazione al voto. Lo stesso Rampini parla di censura, ancora più surreale, nei paesi dove vigila più estrema libertà di espressione per chiunque. Del resto, dopo che Nancy Pelosi ha fatto la strana affermazione che ho citato, nessun giornalista ha ritenuto di farle domande e chiederle di chiarire, così come hanno evitato in campagna presidenziale di mettere Biden con le spalle al muro su certi scortanti argomenti. Con un tale schieramento dei media si può parlare di corretta competizione elettorale. Secondo Anson, i social media con il loro comportamento hanno fatto un regalo di enorme valore a Biden. Anson aggiunge, la Silicon Valley, come le società petrolifere, ferroviarie dello zucchero del XIX secolo, non vede alcun motivo per nascondere la sua partigianeria e il suo potere. Una repubblica non è solo una nazione basata su leggi, si affida anche ai sondaggisti onesti, ai media e alle istituzioni bipartisan. Ebbene, ci sono molte ragioni per preoccuparsi che qualcosa in America sia andato terribilmente storto. Molti dei principali sondaggi elettorali che per settimane hanno continuato a bombardare prevedendo un crollo elettorale di Trump come avevano fatto nel 2016, ma dopo aver sbagliato quattro anni fa, la loro previsione si è rivelata sbagliata anche stavolta, perché molti operatori e tecnici progressisti perseguono uno scopo politico. Tutto questo può incidere sull'esito elettorale. A ciò si aggiungono le grandi zone di opacità sul voto del 3 novembre. Spetterà alle seti istituzionali valutare le contestazioni mosse da Trump e dai repubblicani, soprattutto sugli sconcertanti aspetti del voto postale, così come squetterà alla revisione degli scrutini, definire vincitori e vinti di ogni stato. Di fatto sembra che già siano stati riconosciuti dei problemi, ad esempio per quanto riguarda il bug scoperto nel software per la tabulazione dei voti che aveva alterato i risultati. Si tratta di capire in quanti stati è usato questo software. In ogni caso, il fatto che ci vogliano così tanti giorni per conoscere l'esito del voto dimostra obiettivamente che questa elezione è stata molto molto strana. Nella sua ultima conferenza stampa Trump con un'espressione molto seria si è pacatamente rivolto a Biden, sottolineando che alla base della democrazia ci sono la trasparenza e la correttezza delle elezioni. D'altra parte la grave crisi della democrazia in America si manifesta anche nel clima di intolleranza ideologica nelle piazze, nell'università e sui media che si è visto in questi mesi. Riccardo Cacioli ha scritto anche negli Stati Uniti si è ormai affermato un totalitarismo culturale e politico che non ammette repliche e voci fuori dal coro, ma forse la partita non è ancora finita. Questo era Antonio Socci. Ragazzi, guardate la situazione, perché pure i giornali qui stanno facendo come in America, censurano tutto. È confermato il video che ho fatto ieri, ci sono rivolte un po', cioè i repubblicani che occupano molte piazze in America, si vede anche molta gente armata, quindi ci potrebbe anche essere un rischio di guerra civile. La partita è tutta da giocare, anche se è difficile che possa trionfare Trump, la vedremo, è la speranza come si dice all'ultimo a molire. C'è un amico che mi fa alcune domande, la prima mi dice però se ci sono stati precedenti di questo tipo. I precedenti ci fanno sperare bene perché ci sono stati. La Corte Suprema nel 2000 gareggiavano per la presidenza Bush Junior e Gore e fu la Corte Suprema a decidere dopo un mese che c'erano stati brogli in Florida e quindi ricontarono i voti che consentirono a Bush Junior di vincere le elezioni. Poi mi chiede quest'amico se ci sono stati dei precedenti simili alla campagna elettorale di adesso. Sì, ci sono stati. L'influenza spagnola. L'influenza spagnola ha devastato veramente il mondo. Non era una falsa pandemia come quella da adesso. L'influenza spagnola siamo nel 1918 e pensate che per i morti non si svolse la campagna elettorale proprio in America. Le elezioni si fecero e vinse Wilson del Partito Democratico. Ma questo accadeva all'incirca un secolo fa. Proprio dagli Stati Uniti partì poi le centinaia di migliaia di persone che morirono dopo aver sofferto di mal di testa, difficoltà respiratorie, tosse, febbre alta. Sembra molto simili, i sintomi sembrano, a quelli dell'epidemia di adesso. Però alcuni mesi dopo, dagli Stati Uniti, questa influenza arrivò in Francia, in Belgio, in Germania dove si cominciarono a causare gli stessi sintomi. E però perché si chiama spagnola? Si è arrivata prima in America. Perché c'era stata una festa in Spagna e un grande assembramento per una festa religiosa e quello causò proprio lo scoppio dell'epidemia di questa misteriosa malattia. Cioè da quel momento iniziò a divulgarsi in maniera incredibilmente veloce. Quindi siamo nel 1918, la prima guerra mondiale è sulle fasi finali e ci si trovava proprio di fronte a una delle più grandi pandemie della storia, della storia che perlomeno conosciamo. E pensate che l'influenza spagnola ha causato tra i 50 e i 100 milioni di morti in tutto il mondo. No come? Vabbè, lasciamo stare quello che sta accadendo adesso. Poi mi chiede questo amico, ma come mai tutti questi problemi per le elezioni postali? È la prima volta che ci sono? No. Ci sono praticamente da sempre, dall'inizio della democrazia. Però c'è da pensare che prima avete presente i film western, i salunni, e si andavano a votare in quei salunni, quindi pensate quanti brogli elettorali c'erano. In cabina si comincia nella seconda metà dell'Ottocento, esattamente dal 1864. Di conseguenza, perché si ripropone il voto postale adesso come problema? Perché a causa del coronavirus questo voto postale, che prima era molto limitato, è aumentato a dismisura. Per questo che ci sono stati brogli elettorali di questa portata. Bene, cari amici e cari amici, non è detta l'ultima. Quindi vi voglio bene, ci siamo divertiti a offrirci caffè reciproci nel video precedente. Restate sul decimo toro. Io lavoro per voi, come vedete. Adesso sono le sette e mezza e già sto pubblicando il primo video, l'ultimo ieri l'ho pubblicato intorno alle nove di sera. Bene, cari amici e cari amici, un caro abbraccio a tutti. Marco